Vuoi vendere il tuo appartamento che è stato costruito su un terreno concesso dal comune per 99 anni in diritto di superficie? Ecco tutto quello che devi sapere. Con il diritto di superficie possiedi l'appartamento, ma in realtà il terreno su cui sorge il fabbricato è di proprietà del comune. Può sembrare complicato, ma c'è una buona notizia. Puoi vendere tranquillamente e liberamente l'appartamento, ma c'è un dettaglio importante da considerare. Prima della vendita del tuo appartamento è necessaria una specifica perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. Questo documento sarà necessario per stipulare l'atto di compravendita in tutta sicurezza. Ora sai come vendere il tuo appartamento in diritto di superficie senza problemi e buona vendita. E se ti desideri maggiori informazioni a riguardo, noi siamo a tua completa disposizione. Contattaci!